Trasmettete la gioia della fede, continuate a prendervi cura dei più vulnerabili, vedove, donne sole, divorziati, bambini, orfani a causa dell'AIDS. Lo ha detto Papa Francesco e i Vescovi di Sudafrica, Botswana e Swaziland, ricevuti al termine della visita ad Limina. Il Papa ha ricordato che una chiesa minoritaria deve essere ancora di più segno di speranza. Ha detto che la minore natalità ha ripercussioni sul numero di vocazioni, ha ribadito che alla cultura secolare va ricordato il valore della vita contro l'aborto, contro il depreciamento della sessualità. Di fronte alla crescita dei divorzi il Papa ha notato l'importanza della stabilità della famiglia e si è espresso contro le violenze a donne e bambini. Tra gli altri temi ha esortato i Vescovi a intensificare la vicinanza verso le persone senza lavoro e impegnarsi sempre di più nella formazione del clero.